a me a tutti quanti ciao ci siamo noi saluta tutti quanti salzarina saluta erina saluta eccolo qua non ti fai video? si ma io non voglio salutare nessuno ma noi non voglio salutare ma io non voglio salutare nessuno ci 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 Si, 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 Non sono finiti i piatti quelli, ma sono finiti i piatti. E' un'unica pizza. E' un'unica pizza? Si. Oh, ecco. C'era un po' qua. Come ci sono? C'era un po' qua. C'era un po' qua. C'era un po' qua. E' andata a bere la ponte. E' un po' qua. E' un po' qua. E' un po' qua. Signorina, ora ci cambiamo un po'. Ok. E' un po' qua. E' un po' qua. E' un po' qua. No, stavo prendendo il piatto per il mellone. Domani stasera mi devo lavare così mettiamo asciugare. E' un po' qua. E' un po' qua. E' un po' qua. E' un po' qua. So, c'era un po' qua. C'era un po' qua. C'era un po'. So, c'era un po' qua. T'rima en, c'era un po' qua. Grazie a tutti. 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 a tutti.